Direttamente dal Polo Norte, Santa Claus, alias San Nicola, all'Oase di Campiglione, ma la vera storia sulla Babbo Natale. Com'è? Sì, è molto semplice perché fra i miracoli di San Nicola è ricordato il dono di tre palle d'oro che lui fece a tre ragazze poverissime per potersi fare la dote. Come queste belle ragazze? Come queste scopende ragazze. E da questo dono che lui fece gratuitamente è venuta fuori la tradizione di questo personaggio che regala ai bambini e a tutto il mondo questi regali così in maniera proprio spontanea, gratuita e bellissima. E l'originale Santa Claus nordico non vestiva questi panni ma era un costume di colore verde, poi trasformato per altre esigenze commerciali in questo costume, in questa cosa bella rossa. L'importante è anche per i grandi il pensiero felice di avere questo spirito di questa fanciullezza dentro e avere questo bel pensiero. Grazie, ma buona tante. Direttamente da Campiglione e dal nostro di Girasole. Grazie, ma buona tante. Grazie, ma buona tante. Grazie, ma buona tante. Grazie, ma buona tante. Buonasera a tutti, siamo in piazza del Popolo a Fermo, sulla piazza c'è il castello di Harry Potter e la pista del Palaiaccio, sentiamo gli auguri di Fermani. Franco Marinucci, grande fotografo, cosa hai visto qui in piazza a Fermo di orgoglioso? Fermo è tutta bella, è un museo a cielo aperto, vicoli, tutte le viuzze, le vetrine, tutto un incanto, è uno spettacolo, peccato come ho detto prima che la gente per adesso è mancata, speriamo che l'ultima parte dell'anno ci riservi molti più visitatori. Oggi buona festa all'italiano, grazie a tutti Emilio! Tanti auguri di buon Natale, come sembra la piazza del Popolo di Fermo? È bellissima, la mulziano dottorò ci croce un felicito, auguri a tutti! Cosa ci consiglia signora per Natale? Questo è il banco di Norcia, benvenuti a Norcia, io vi consiglierei in particolare i coglioni di muro, o le palle del nome, non è una parolaccia eh? Si chiama così? Sono i nostri saluti, la specialità Norcina. Ecco questo, tantissimi auguri! Grazie mille ragazzi, buon lavoro e buon Natale! Da dove viene? Da Roma! Tanti auguri a tutti! Buon Natale! Io faccio gli auguri di buon Natale a tutti, a tutti quanti, un felice anno nuovo! Come si chiama e da dove viene? Sono Debora, ecco da Puglia di San Giorgio, sono Tanti auguri di buon Natale e mi c'è un nuovo appunto. Le mie canzioni, da domani inizierò il laboratorio con tutti i bambini e creerò molte cose che sono scusate in questo momento. Monica Ferragudi e Marco Baba, sedele organizzazioni dello stop. Abbiamo questo villaggio ormai da tre anni e ogni anno le richieste sono sempre maggiori, quest'anno eravamo arrivati a 40 casezze e magari poter dire a tutti di sì. La piazza però è questa qui, è un po' limitata e daremo spazio agli altri espositori l'anno prossimo. Molti hanno già fatto il contratto e insomma siamo contenti, nonostante il tempo quest'anno non sia stato tanto clemente nei nostri confronti, però hanno tutti lavorato molto bene e la piazza rende veramente un clima natalizio. Dai, eventi non stop, Monica Ferragudi, Marco Baba, tutta la piazza e tutti gli espositori che stanno qui al villaggio. Buon Natale a tutti! Auguri a tutti! Tanto piace! Tutti auguri! E tutti auguri! Come ti chiami? Angelo! E cosa hai chiesto a Babbo Natale per questo anno nuovo? Un Lego della giungla! Tanti auguri a tutti! Bravo! Noi siamo di Monza, Villa Santa, abbiamo circa 11 anni che mi troviamo qui a Fermo e riscopriamo un posto fantastico, veramente! Buon Natale e buon anno, speriamo che sia pieno di felicità! Lorenzo Tessoni, come è il disco di Natale? Eh, questo anno ci sono state tantissime belle uscite, tra le quali livello 2, Nina Cerenitano e poi una delle più vendute, può far ridere in prova veramente a bomba, è Cristina D'Amena che ha fatto tutti i gruppi e poi tantissime altre uscite. E' uno dei combinatori che apparezza, ovviamente, è i grandissimi Negramari. Natale a Fermo è diventato una cosa quasi alla World Business e ci fa molto piacere anche perché io amo le impazzini a Natale. E poi, come diceva Francesco Trasatti, che è il vice sindaco, lui vuole creare un vero e proprio marchio, cioè come quando uno pensa al carnevale di Viareggio o al carnevale di Venezia. Il Natale, piano piano l'Italia deve cominciare a pensare a febbraio. È una cosa che secondo me non è neanche utopia, perché comunque stiamo vedendo in questi tre anni, per me sta esplodendo dei colori e di magia. Ti piace fattinare? Sì, tanto! Quest'anno sono stata più buona dall'anno scorso. Sì, sì, buona verità! Buona verità! Buona verità! Buona verità! Feliz Navidad! Colcinaro, cosa dice di questo Natale in piazza a Fermo? Beh, credo che adesso le cose vadano molto bene. Fa piacere vedere questa città così piena, così viva e quindi, insomma, l'augurio è quello di serene festività a tutti i fermani e non solo. Chi viene fuori naturalmente lo invitiamo a visitare questa nostra città che durante queste festività dà proprio il meglio. E' un'opera di risoluzione. E' un'opera di risoluzione. Hai auguri di buon Natale? Buon Natale! Auguri di buon Natale! Dove è signora? Buon tapone! Auguri e buon Natale a tutti voi! Un bacio di Angelica! Gli altri attesini dell'aeroporto! Forte! Mi ha bloccato la casa! Nocia, ti ringrazia! Nocia, ringrazia e vi auguro un buon Natale! Grandi auguri a tutti gli ascoltatori di FM e TV! La no è vera e tutti i prodotti cosmetici un sapone naturale un po' di oli essenziali delle fasce benessere e cereali e le fasce benessere e cereali Tutti provenienti da? Da Smerillo Un posto fatato in una piazza magica di ferro E se no connexion dalle montagne alle montagne a a se auguri a se auguri a se il fio e il fio è un buon Natale Ora andiamo a vedere la torre astronomica di Harry Potter 之後 Come va? Seve un buon Natale Viar un buon Natale Da Smerillo che si un buon Natale non cuore in un buon Natale noi l'ho in un buon Natale noi e in un buon Natale di del Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.